Ciao a tutti, sono Samer Badaru. Mi sono laureata presso l'Università degli Studi dell'Insubria in Scienze della Comunicazione. Oggi frequento il secondo anno del corso magistrale in Scienze Tecniche della Comunicazione. Ho deciso di proseguire gli studi in questo Ateneo perché con il passare del tempo si è creato con i miei colleghi un rapporto molto stretto. Noi passiamo in aula gran parte del nostro tempo ed è importante comunque che ci si senti a proprio agio. I professori sono molto cordiali e disponibili e pronti a sostenerti. Non so comunque se avrei trovato lo stesso clima all'interno di un altro tipo di università. Inoltre ho potuto eseguire un tirocinio presso un'azienda della zona che ha arricchito tanto il mio bagaglio culturale quanto il mio curriculum vitae.